Buongiorno e bentornati dal vostro produttore di fiducia, sono sempre Gianluca in questo video vi faremo vedere come si sbucciano i fichi d'India anzi ve lo farà vedere proprio Romario in persona la tecnica per sbucciarli al meglio senza danneggiare l'interno insomma quello che poi si va a mangiare ovviamente dobbiamo prima togliere le spine se voi li comprate in giro, quelli che trovate in commercio magari non sapete appunto come si sbucciano li troverete già senza spine sicuramente va bene, io vi ricordo che sul nostro canale ci sono tantissimi contenuti riguardanti l'agricoltura soprattutto l'agricoltura fatta a misura d'uomo con sostanze naturali iscrivetevi, mettete mi piace, condividete i video andate a vedere il nostro blog dove troverete molti post appunto riassuntivi di dosaggi dell'utilizzo proprio di queste sostanze naturali famose e anche proprio tecniche di coltivazione va bene, quindi ora vi lascio al video di Romario come si sbucciano i fichi d'India vi raccomando fate i bravi picciotti e mandateci i video pure iscriviti al nostro canale iscriviti al nostro canale grazie a tutti